Alla giornata dell'inclusione che si sta tenendo qui a Serre, anche il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, presidente, lei non fa mai mancare la sua vicinanza quando si affrontano temi così importanti? È faticoso, la provincia è vasta, tanti comuni, tante iniziative in questi momenti, soprattutto quasi estivi, nonostante la giornata non estiva del tutto, però le iniziative sono tante, ma questa era un'iniziativa che meritava la presenza della provincia, la presenza significativa di un ente che fa rete con il territorio, soprattutto per un tema, quello dell'inclusione, che diciamo conforta, che parta da piccoli centri come Serre in collaborazione con altri comuni, che si guarda alle persone più fragili, che non si è indifferenti, ci fa sperare per il futuro. Poi vedo tanta gente, quindi c'è il calore, c'è la partecipazione, c'è la consapevolezza che bisogna stare uniti così nessuno si sentirà solo. Serre, oggi si colora con i colori dell'inclusione, grande festa, una festa dedicata a tutti i bambini e non solo, la giornata dell'inclusione appunto denominata Stringi la mia mano. Noi siamo con il sindaco Antonio Pramolla. Sindaco, questo è un momento molto significativo per questa cittadina? Una giornata indimendicabile, una giornata rivolta ai bambini, ai ragazzi, ai giovani di questa comunità e non solo di questa comunità diversamente abili. Una giornata davvero emozionante e viverla da primo cittadino è davvero un'emozione unica. L'abbiamo voluta fortemente organizzare questa prima giornata dell'inclusione sociale perché riteniamo che nessuno debba rimanere escluso, nessuno debba rimanere indietro. E quindi oggi ne approfitto per ringraziare le tantissime associazioni che hanno aderito fin da subito a questa importante iniziativa, a questa importante e significativa giornata. Ringrazio altresì la provincia di Salerno, nella persona del Presidente Alfieri, sempre uomo disponibile, uomo del fare, uomo vicino ai nostri territori. L'onorevole Tommaso Pellegrino, onorevole regionale, la consigliera delegata alle politiche sociali della provincia di Salerno, Filomena Rosamilio e il forum dei giovani con il coordinatore Nicolò Passannanti che insieme a tutto il gruppo dei giovani ci è stato vicino, fianco a fianco, nell'organizzare questa bellissima, ripeto, stupenda ed emozionante giornata. Grande partecipazione da parte del forum dei giovani per l'organizzazione della giornata dell'inclusione che si sta tenendo qui a Serra. Noi siamo proprio con il coordinatore Nicolò Passannanti, com'è nata l'idea della panchina dell'inclusione? Nasce per dare un senso a questa giornata e per dare un di più a questa giornata, per non lasciare questa giornata a fine a se stessa ad oggi primo luglio, semplicemente perché questa è una panchina nelle vicinanze di una scuola e quindi i giovani, i bambini ogni giorno possono guardare e sedersi su questa panchina e coinvolgere anche i bambini con problematiche e non lasciarli mai indietro perché il vero messaggio di questa giornata è che nessuno resti da solo e soprattutto indietro. Tra l'altro questa panchina è stata dipinta da un artista che è proprio di Serra. Sì, grazie mille a Lucia Di Salvatore che è un artista di Serra che con una sua opera di volontariato ha aderito a questa giornata che è stata fortemente voluta dal Comune di Serra con la nostra collaborazione e ringrazio ancora una volta tutti i giovani del Comune di Serra perché è stata una collaborazione attiva, circa una cinquantina di ragazzi che sono mesi che lavoriamo con il Comune, gli assessori dei preposti, i consiglieri. È stato un evento che ci ha impiegato molte energie però è andato a buon fine.